Fabiano Antoniani, in arte DJ Fabo, dal 2014 non poteva più muoversi né vedere. Per questo ha scelto la strada del suicidio assistito, ma per percorrerla è dovuto andare in Svizzera, visto che le leggi del nostro Stato non consentono né questa pratica né quella dell'eutanasia. Quest'ultima differisce dalla prima perché richiede l'intervento diretto dei medici. La senatrice Monica Cirinada Rimini considera vergognoso che un italiano debba andare all'estero in alcuni casi per la nascita dei figli, per sposarsi e per morire. Purtroppo l'accusa che lui ha lanciato prima di morire è vera ed è anche giusta. Io mi vergogno da membro del Parlamento, di questo immobilismo nel quale il Parlamento si trova. So che anche questa sul fine vita, sull'eutanasia, sull'autodeterminazione sono leggi divisive, ma anche unioni civili erano leggi divisive. Bisogna prendere il coraggio di affrontarle, contarsi e chi ha minoranza se ne deve fare una ragione. Questo è un paese dove si va all'estero per nascere, penso a tante tecniche protezione assistita, è un paese dove si andava fino a pochi giorni fa all'estero per sposarsi. Pensate a chi senza unioni civili andava a sposarsi all'estero e si va ancora all'estero per morire. È un paese incivile sotto questo punto di vista.